E' con noi Roby Sesana Roby diceva, dove prendo il microfono? No, quello credo sia fisso Questo invece... Ecco, è Francesca che se l'era rubato Ciao a tutti! Eccolo qua Allora, Roby, da dove? Da Lecco Da? Lecco Lecco? Vicino a Como Non facciamo battute, eh? Ma ho detto una parola, cioè Vicino a Como, sì Vicino a Como, sei arrivato in ritardo la conferenza stampa Ma voglio dire perché eri in ritardo Perché arrivavi da lassù Quindi, insomma, ci voleva tempo O eri a dormire in hotel? No, no, no Arrivavo da lassù Sono minimamente giustificato Minimamente Stiamo scherzando, ovviamente Ci canti un brano che si intitola? Una Dea Anche qui dedicato Dedicato a... Senti, io a questo punto ti lascio da solo con lui Presentatelo tu Ciao, ci vediamo dopo Va bene, ciao Allora, una Dea dedicato a? Più che altro è un sogno Un sogno Di una donna Di una donna, immagino Ovviamente La tua donna del... Ideale Ideale Come deve essere questa donna ideale? È perfetta Proprio per questo non esiste Allora sarà un sogno Resterà un sogno Speriamo che il sogno però di vincere questo Radio Tour Festival si realizzi Noi te lo auguriamo, ovviamente Se lo potete votare al codice A13 Robi Sessana Grazie 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 Sei un'idea, non ti fermare dai, nel mio cuore cosa mi fai, nella mente tu che pensieri hai, nel tuo letto come mi puoi, sei un'idea, non ti fermare dai. La temperatura aumenta, fa tanto caldo ormai, senza inibisioni tu mi prendi e tu mi fai, io ti bacio il collo e poi metto le labbra dove sai. Non conosco i limiti, perdo la testa quando dici dai, nel mio cuore cosa mi fai, nella mente tu che pensieri hai, nel tuo letto come mi puoi, sei un'idea, non ti fermare dai. Non ti fermare dai, non ti fermare dai. Nella mente tu che pensieri hai, nel tuo letto come mi puoi, sei un'idea, non ti fermare dai. Nella mente tu che pensieri hai, nel tuo letto come mi puoi, sei un'idea, non ti fermare dai. Nella mente tu che pensieri hai, nel tuo letto come mi puoi, sei un'idea, non ti fermare dai. Grazie!